È il lavoro più meritocratico del mondo ed è molto semplice. Se funzioni ti chiamano, se non funzioni non ti chiamano più. Il mondo del doppiaggio non è solo selettivo, ma lineare, giusto, implacabile. Non ha tempo da perdere e si disciplina con una praticità ipodermica, da sé. E se il doppiaggio ti chiama, non puoi perdere un giro. Devi esserci. Per dieci anni circa, dunque, decido di dedicarmi pressoché esclusivamente a questo. D'altra parte è lavoro, esperienza, ma anche emozione, crescita. Parto forte con tre turni al giorno. Entro alle nove di mattina ed esco, se tutto va bene, alle sette e mezzo di sera. Faccio di tutto, perché agli inizi è così. Perché più si fa, più si impara e più ci si fa conoscere. Non è il tempo dei cascee alti, né quello dei no. È un tempo quasi bulimico, colmo di qualsiasi cosa si presenti. Ai lavori disciplinati dal contratto collettivo, allora, a fianco, un'attività all'atere che negli anni Ottanta rappresenta un mercato parallelo enorme. Il doppiaggio di film porno. Per noi giovani, agli inizi è una miniera d'oro. Anche se non è il caso che si dia troppa pubblicità alla cosa. Né dal punto di vista contributivo, né da quello strettamente contenutistico, diciamo. C'è ancora la censura. Bisogna stare attenti. Una roba che possiamo definire anche pericolosa. Ovviamente lo facciamo tutti. C'è un certo Polselli che ha un'attività fiorente, in tal senso, e allora pesca tra di noi nuove leve. Io mi ritrovo, con Pino Insegno e tante altre facce conosciute, uomini e donne, attorno a un leggio con un copione decisamente striminzito. Ah, oh, 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 c'è scritto. Tutto per bene, essenziale, ma preciso. Per non parlare delle scene collettive, Ognuno le chiami come ritiene. In cui, in studio, la situazione appare ancora più surreale. Insomma, un briciolo di imbarazzo c'è anche. Magari siamo sette, otto persone che non si conoscono e ci ritroviamo a girare intorno a un microfono cardioide e mettendo solo versi. Buongiorno, buonasera, e subito. Ah, ah, sì, ancora, dai. Ah, 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 così, di più, sì. E poi arrivederci tutti. Anzi, soldi in mano e arrivederci a tutti. Insomma, alla fin fine, imbarazzo, ma con una quota di concretezza apprezzabile per un ragazzetto.